Hai un'idea per un'attività imprenditoriale? Con la Camera di Commercio di Torino ti accompagniamo nella fase iniziale di orientamento. Il settore nuove imprese, infatti, ti può aiutare a esaminare le tue capacità imprenditoriali, definire meglio la tua idea e ripensarla in funzione al mercato, stabilire obiettivi e strategie. Per l'avvio di impresa valutiamo insieme a te i requisiti professionali necessari, la forma giuridica più adatta al tuo progetto, gli adempimenti di legge da affrontare come l'iscrizione al nostro registro imprese. Ma c'è di più! Organizziamo corsi di formazione per studenti e neoimprenditori, realizziamo guide a disposizione di chi vuole avviare un'impresa e per essere sempre aggiornato ti puoi iscrivere alla newsletter Nuove imprese in forma. Una pianta che cresce è il simbolo del nostro laboratorio Nilab, un percorso per risolvere le prime questioni pratico-organizzative nella fase costitutiva dell'impresa. Nilab è anche una community su Facebook. I neoimprenditori possono trarre vantaggi confrontandosi e ampliando la rete dei contatti. Al nostro interno il Comitato per l'imprenditoria femminile e il Comitato per l'imprenditorialità sociale si occupano di sostenere realtà importanti, imprese femminili e settore non profi, che contribuiscono allo sviluppo dell'economia torinese. Un'ultima cosa, tutti i nostri servizi sono gratuiti!